Se un giorno l'elefante Se certo l'elefante andasse in bicicletta, di certo col suo peso la romperebbe in fretta. Se un giorno l'elefante andasse in motorino, starebbe molto scomodo seduto sul sellino. Se un giorno l'elefante salisse su in vettura, non si potrebbe mettere nemmeno la cintura. Per questo l'elefante viaggia in treno diretto e per star più comodo prende il vagone letto. Grazie a tutti.